Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand, sono su Overcraft il video, l'avevamo già registrato io e Rinegan assieme Il problema è che Rinegan doveva schiacciare il tasto del PVR e si è dimenticato Dicevo ma è colpa sua, no in realtà è lui che dovrebbe schiacciare quello Quindi è colpa sua e dovevo registrarlo di nuovo da solo Se vi ricordate mi ero fermato a livello 12, però non l'ho fatto in live Ho trovato un replay sul web, vi faccio vedere un attimo come si fa a livello 12 Praticamente Quando lui scendeva con la macchina dovevi dare il colpo di boost E praticamente arrivavi fino alla fine e poi lasciavi che la macchina cadesse da solo Comunque vede sono riuscito a farlo perché sono a livello 13 Quindi sono riuscito a superarlo e ci ho messo troppo tempo ragazzi Non potevo fare un video solo su livello 12 Intanto qua c'è tipo una macchina spastica nel livello 13 Spero di riuscire a fare questo livello Quando è così poca batteria non so mai se usare il boost Cioè nel senso qua sono un po' stretto Però quando ci sono questi livelli sono un po' bastardi Per cazzo no Oddio che culo Oh ce l'ho fatta ce l'ho fatta ragazzi No 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 salì 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 Perché dopo finite la batteria e come sapete nei challenge non trovate le batterie Pertanto se finite la batteria avete perso Vabbè ho finito Bom era facile facile Andiamo a livello 14 La battaglia ti attende in torneo What the fuck è un cingolato ragazzi Guardate è un carro armato pieno di batterie Tra l'altro ci sono le batterie normali però Ok che ce ne sono tante Ma gli accumulatori tengono tipo il triplo di una batteria normale Quindi speriamo di riuscire a fare questo livello senza avere bisogno di Ecco io diciamo che nei challenge vi consiglio Quando ci sono le discese Cazzo c'è l'era Quando ci sono le discese di non accelerare Perché così andate avanti e risparmiate un sacco di energia di batteria Altrimenti se continuate ad accelerare rischiate di arrivare alla fine senza batteria E fare come me che a un metro dall'arrivo E non riuscite più ad andare avanti quindi perdete Cazzo di salto Bene ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta Possiamo andare avanti Non è difficile però devo stare attento alle batterie Perché non so quanto è lungo Quanto è lungo sto cazzo di percorso Bene ragazzi era abbastanza semplice Come vedete ce l'ho fatta Passiamo subito a livello 15 Mmm bella questa macchina Beh di sicuro riesco a fare le salite perché c'è la ruota grip davanti Cazzo Oddio adesso Oddio no 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 non cadere di punta Ce l'ho fatta Oddio che culo Pensavo di riuscire pensavo di cadermi di Pensavo di cadere di testa Ok boost assolutamente Boost un po' qua anche qua Ottimo di non cadere nel buco Dai Ottimo 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 Qua non accelero Ok merda Oddio non si è rotta la macchina Quando fate queste tuonate di fronte Proprio rischiate male che la macchina si rompa Quindi devo stare molto attento Ok dai 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 Sopra sto pezzo E qua devo andare sopra o sotto Vedo che c'è tipo una salita Dai boost No vado sotto ragazzi Oddio Uh che ce l'ho fatta Ce l'ho fatta No 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 Ok colpo di boost per salire Dai Ottimo Ho capito che la battaglia mi attende in torneo Non sto giocando a Clash Royale Sto giocando a Rovercraft Scusa Ok ok è finito ragazzi È finito Perfetto Andiamo subito a livello 16 Che cazzo è sta macchina Oddio Che roba brutta 3 boost Oddio no Che figata È tipo un tunnel Devo correre sia sopra che sotto E qua Boosta 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 Rhymes Ottimo Adesso dobbiamo andare indietro Ok E boostare il male Oddio Perfetto Perfetto Dai che ce la faccio È finito No non è finito Andiamo avanti allora Non so ragazzi I miei occhi vedono cose Sembra facile però come livello Dai Almeno che adesso non finisca la batteria Io adesso non accelero Dai Non accelero Vediamo Oh ragazzi È finito E allora ragazzi Siamo a livello 17 Bene Passiamo a livello 17 E qua c'è una macchina con la coda Ma che cazzo di macchina è Una macchina con la coda Ecco Perfetto Già c'è un ostacolo Ah boh Ok perfetto Questo va giù Ok Andiamo avanti Ma che È una roba orribile Fa fatica andare avanti Tipo Un altro ostacolo Beh lo buttiamo giù Perché non va giù Oh Una parola Qui buttare giù l'ostacolo Dai Oddio sono bloccati In un loop infinito Ok ecco No Porca puttana Non c'è il boost Dai eh Ok 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 Sta andando giù Sta andando giù Ok ok Ce l'ho fatta Bene adesso andiamo giù Piano piano Buono buono Mai no Ok Oh vedete L'ostacolo serve praticamente Per farvi fare questa sorta di Scalino Adesso andiamo avanti Qua non devo Accelera Ottimo Ottimo ce l'ho fatta Non incastrarsi adesso Quella cazzo di coda Si incastra dovunque Eh che infatti Neanche detto ragazzi Sono andato avanti Mi sembra di essere incastrato Ma intanto sto andando avanti Ancora con 5 vita Non sono mai morto Fino adesso Non ho mai perso Quindi sto andando avanti Molto molto bene Ecco che cazzo di Io ho paura di incastrarmi Non so perché ragazzi Ma c'è troppo C'è troppo No no Finito Ancora Ho capito La battaglia Di training torneo Ancora È una macchina come quella di prima Ma solo che sopra adesso abbiamo delle ruote a grip tipo Adesso qua che cazzo Oddio Accelera No 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 Non cadere No no Dai Butta peso qua Dai Oh dai che ce la faccio Dai Che culo No Frena Non ribaltarti Non ribaltarti Che cazzo è sta roba Ma no Ma stiamo scherzando Ma devo mettere Devo mettere le ruote di sopra E come faccio Scusate Non va avanti Non è impossibile Ma Ma che cazzo di livello è Oh Cosa è successo Non sapevo che se Mi incastrano i livelli più assurdi Accelera Frena Accelera Non cadere Ok Adesso devo mettere Praticamente le ruote Là sopra Ma come faccio Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sono anche le altre ruote Dai Ma che figata Bellissimo sto livello Che storia È stato difficile Però è figo Adesso Dittemi che c'è un'altra cosa Da fare così Perché Non è che mi vada molto Ci ho messo mezz'ora A incastrarmi lì Non cadere Non cadere Cazzo lì la fine L'ho vista No No Sì ok ce l'ho fatta Mi stavo per incastrare Aspetta Andiamo Acceleriamo Piano Molto piano Ok Ok ragazzi Il livello è finito Andiamo a livello 19 Oddio Un altro cingolato Ma cos'è Guardate Ho due tubi di scarico Quelli in Toria L'hanno molta più potenza Le ruote Infatti va come corre Sta macchina Ma in Toria Con i cingolati È abbastanza semplice Fare i livelli Perché Aspetta che sto zitto Va Aspetta che sto zitto Che dopo mi incastro C'è già Ancora Ho capito Non gioco a Clash Royale Adesso voglio giocare A Rovercraft Non rompere Ma no Cazzo che figata Adesso mi sono accorto Che c'è un vuoto sotto Se cado sono fottuto Fottuto Sai come dicono Fottuto in Russia Fottuto Dai che ce la faccio Grandissimo Finito Facile Andiamo a livello 20 Allora A livello 20 Questo ragazzi È l'ultimo livello Del Tire 2 Quindi livello 2 Oddio mio Quanto corre sta macchina Oh cazzo no Ecco No No non lo so Busta Busta Rhymes Aspetta dai Dai cazzo Eh ma finisco la batteria Dai Devo rifare Già Frena Non ribaltarti Ottimo Aspetta Prendiamo la rincorsa Va qui Meglio prendere la rincorsa Via 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 Così non uso il boost Dai Ottimo Non ho usato neanche il boost Non ho usato neanche il boost Sono grande Oh cazzo adesso Oh fermi eh Fermi Io lascio andare così Accelera Non cadere di là Ah bastava andare sotto Fa un culo Ok perfetto Siamo andati avanti Cos'è sta roba adesso Ma così No no qua Qua Cosa devo fare qua io Guardate ragazzi Sono piantato Ok perfetto Usiamo il boost Allora Non è un problema Ottimo Adesso acceleriamo Qua ho finito il livello Ho finito il livello Allora boostiamo tutto Ragazzi Bene ragazzi Il video finisce qua Ricominceremo dal livello 21 Quindi dal tetto Guardate la macchina Dove sta andando Guardate Guardate Oddio no È ancora vivo Ricominceremo dal livello 21 Se vi è piaciuto Lasciate tanti bei mi piace Iscrivetevi al canale E rinnegan Ricordati di accendere il PBR Quando registriamo Ciao a tutti E al prossimo video Ciao a tutti